Antipasto di affettati misti e sottaceti, lire 3000. Cannelloni al forno, lire 5000. Bucatini alla matriciana, con, o senza pomodoro, lire 5500. Spaghettini allo scoglio, lire 7000. E pesce, sì che costa parecchio. Unti la menta, papa al pomodoro, lire 2800. Così spendi poco, spilorcio. Cacciucco alla Livornese, bimbo, lì bisogna che tu ti frughi. Scaropina ai funghi, t'attacchi perché funghi un cenè. Trippa alla parmigiana, se ci sapeva ti s'era bella e fatta mangiate. Dolce, tiramisù coi pavesini, oppure cantuccini inzupati nel vinsanto. Unti basta? Boiacchie l'otro, ponci al rumme, al mandarino e al sassolino. Du pedatoni poi ti si danno gratis. Grazie. Grazie.